Ayanam, 2001, ben arriva, signor Presidente, tutta Ayanam, un'cantità di placa, però ora propone quanto placa il governo è tutta TIN, comparare con lo quale non è tutta TIN. E se vuoi mirare chi è successo di, di 8 Ayanam, comparare con lo quale è successo di, di 4 Ayanam di nostra governazione, potrà appunto il buon mese, chi è successo che fonda un pubblico qui? Ma di 2 milioni di florini extra di entrata durante 8 Ayanam. Non ho capito un'acostata, non ho capito un'acostata, non ho capito un'acostata di un paese Ayanam.